La programmazione logica nasce nei primi anni 70 e si afferma come uno dei principali risultati conseguiti nel campo della prova automatica dei teoremi. La ricerca di un procedimento generale per la dimostrazione dei teoremi è un'idea antica che può forse essere fatta risalire addirittura Leibniz quando nel corso della seconda metà del XVII secolo nell'opera sul calcolo filosofico e sulla caratteristica scriveva una volta fatto ciò, cioè quando avessimo trovato un sistema di prova automatica della correttezza di un ragionamento, quando sorgeranno delle controversie non ci sarà maggior bisogno di discussione fra due filosofi di quanto ce ne sia fra due calcolatori. Sarà sufficiente infatti che essi prendano la penna in mano, si siedano a tavolino e si dicano reciprocamente, chiamato se a loro piace un amico, calcoliamo. Questo progetto, cioè il progetto della prova automatica dei teoremi, fu ripreso all'inizio del XX secolo dalla scuola di Peano e negli anni venti fu ripreso dalla scuola di Hilbert. Nell'intelligenza artificiale, oggi, la logica a cui facciamo riferimento come base è la cosiddetta logica del primo ordine, la first order logic. Questa è una formula del primo ordine. Si legge così, qualunque sia X e qualunque sia Y. Se Y è il padre di X e X è maschio, allora X è il figlio di Y. X. Una qualunque logica presuppone un dominio di oggetti su cui applicarsi. Questi oggetti possono essere uomini, cose, animali, o in alcuni casi la logica può anche presentare più domini. In questo caso la logica si dice multidominio o multisorted. Ma per semplicità non è necessario fare questa ipotesi, cioè che abbiamo più domini. Noi supponiamo in tutto questo corso che abbiamo un solo dominio di oggetti, che comprende tutto ciò di cui vogliamo parlare, tutti gli elementi del discorso che vogliamo introdurre all'interno dei nostri ragionamenti. Quindi questo sarà il dominio, ma lo vedremo dopo quando parleremo della semantica. In una logica del primo ordine, i termini che compaiono come argomenti dei predicati devono denotare esclusivamente oggetti di questo dominio. Cioè non è ammesso concepire come variabili proprietà di questi oggetti o relazioni fra questi oggetti, né tantomeno, come vedremo, sarà possibile quantificare su queste proprietà. Cioè in pratica questa è una formula del primo ordine, quest'altra invece no. Qui vediamo una formula che si leggerebbe così, più o meno. Qualunque sia la proprietà Q, qualunque sia la relazione binaria R e qualunque sia la relazione binaria P, se X ed Y sono in relazione P e X god della proprietà Q, allora X ed Y sono anche in relazione R fra di loro. Questa formula non è una formula del primo ordine, ma è detta formula del secondo ordine, appunto perché vengono concepite come variabili proprietà e relazioni fra gli oggetti del dominio e addirittura si quantifica in questo caso universalmente su queste proprietà e relazioni. La logica a cui facciamo riferimento non consente questo, quindi non è una logica del secondo ordine, ma una logica del primo ordine. Perché? Perché negli anni Trenta, soprattutto ad opera del grande logico matematico Kurt Gödel, si sono dimostrate una serie di teoremi che hanno fatto capire come la logica del secondo ordine. È in grado di rappresentare concetti sofisticati, ma non garantisce che si possa provare un teorema in tempi finiti. In particolare nel Trentuno Giedel dimostrò un teorema, che non è questo il suo... pubblicò due articoli in cui erano contenuti vari teoremi, famosi teoremi di Giedel sulla incompletezza appunto dei sistemi di ragionamento per l'aritmetica. Nell'ambito di questi lavori Giedel dimostrò appunto che il problema della validità del calcolo dei predicati del secondo ordine è irrisolvibile e non è parzialmente risolvibile, cioè non esiste un algoritmo che in tempi finiti ci garantisca di poter provare che una certa formula è un teorema oppure no del sistema formale che stiamo costruendo. Dal punto di vista nostro, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale in cui siamo interessati non solo a provare la conseguenzialità logica e quindi provare dei teoremi come vedremo in un tempo finito, ma siamo addirittura interessati a provare in tempi molto rapidi. La logica del secondo ordine non rappresenta una logica di interesse appunto per questi problemi. Nel 1936 Alonso Church, un altro logico importante che è insegnato a Pittsburgh, pubblicò questo teorema in cui dimostrò che il calcolo dei predicati del primo ordine è sì irrisolvibile, nel senso che non c'è un algoritmo che ci garantisce di provare un teorema in tempi finiti, ma è parzialmente risolvibile. Che significa? Significa che se la formula in questione è effettivamente un teorema, beh allora questo algoritmo c'è. Il problema nasce se eventualmente questa formula di cui vogliamo provare essere un teorema del sistema formale non lo sia. In questo caso l'algoritmo può andare avanti all'infinito e non riuscire a provarlo. Chiaramente andando avanti all'infinito non riuscendo a provare che non è un teorema non riusciamo neanche a provare che è un teorema quella data formula. In questo caso è per questo che noi parliamo di parziale risolubilità o anche parziale decidibilità. E quindi come vedremo anche alla conclusione di questa lezione il problema del calco e predicati del primo ordine, cioè la logica del primo ordine è semidecidibile. Allora vediamo di antintraccio un pochino sulla struttura di una teoria del primo ordine. Come tutti i sistemi formali anche le teorie del primo ordine e si compongono sostanzialmente di una parte che radia la sintassi e una parte relativa alla semantica. La sintassi sostanzialmente descrive come le formule devono essere scritte. Invece la semantica forse è un pochetto più interessante perché è la parte che attribuisce un significato di verità non ambiguo a tutti i simboli del linguaggio, in particolare alle formule stesse. La sintassi a sua volta si compone di un linguaggio formale con cui esprimere appunto i concetti e delle regole di inferenza. Cosa sono le regole di inferenza? Sono delle applicazioni meccaniche che dato un certo numero di formule, n, ne producono un'altra. Quindi sono sostanzialmente le regole di inferenza dei metodi meccanici per produrre formule a partire da altre. E quindi la sintassi sostanzialmente specifica come scrivere le formule e come derivarne meccanicamente di nuove, a partire da quelle già introdotte all'interno della teoria. La semantica, come dicevo prima, invece tende ad attribuire, serve attribuire un significato ai simboli del linguaggio. Nel caso nostro noi adotteremo la semantica per l'oggi di primordine che fu introdotta da taschi. Vediamo dopo di che cosa si tratta. Partiamo dalla sintassi. La sintassi a sua volta deve definire innanzitutto un alfabeto di simboli base con cui costruire le formule del primordine. E dato un alfabeto a questo punto bisogna definire le regole per utilizzarlo al fine di costruire costruire le formule che poi andranno a costruire il linguaggio e poi sempre nella sintassi toccherà definire alcune formule come degli assioni per poter poi derivare da queste delle teorie e come dicevo prima le regole di inferenza che vengono utilizzate per provare i teoremi. L'alfabeto. Un alfabeto nella logica primordine è costituito da sette classi di simboli. Innanzitutto le costanti individuali sono da pensare come nomi propri degli individui, cioè degli elementi del dominio. Noi in questa introduzione utilizzeremo le prime lettere alfabeto a, b, c come convenzione. La seconda categoria importante di simboli dell'alfabeto sono le variabili, sempre individuali, cioè informalmente questo che stavo per dire attiene alla semantica, però per cercare di capire in che senso noi chiamiamo individuali queste variabili, mi ricordo a quello che dicevamo prima, cioè sono dei simboli che serviranno ad indicare degli elementi del dominio generici, non specifici come le costanti, elementi del dominio generici. Non possono essere utilizzate queste variabili per rappresentare proprietà di questi elementi del dominio o relazioni fra di essi. In questo senso si chiamano variabili individuali. Ancora, terza categoria di simboli importante, i simboli di funzione. E come vedete, io userò f, g ed h. Questi simboli di funzione sono caratterizzati dall'avere una arità, cioè un certo numero di argomenti che qui indico con apice, i per f, j per g, l per h e così via. Quarta categoria importante di simboli dell'alfabeto sono, forse più importanti, i simboli di predicato. Io qui userò p, q ed r, anche i simboli predicati sono caratterizzati dalla veronarità, c'è un numero di argomenti a cui applicarsi. Come vedremo, i predicati saranno a rappresentare delle proprietà o relazioni fra gli oggetti. Quinta categoria di simboli importante sono i connettivi logici. Così come furono introdotti da George Bull, anche noi oggi utilizziamo, nell'oggio di primo ordine, i connettivi NOT per la negazione, LAND per la congiunzione, LOR per la disgiunzione, l'implicazione materiale, da non confondere con il concetto di conseguenza logica, che specificherò in seguito, e la doppia implicazione. Poi ce ne possono essere anche altri, in realtà non sono neanche tutti necessari per poter rappresentare tutta la semantica di un linguaggio, però è comodo usarne di più. Sesta fondamentale categoria di simboli per quanto riguarda la logica dei predicati sono i quantificatori. Come sono stati sempre definiti all'inizio del XX secolo, soprattutto ad opera di Russell e Whitehead, nei principi matematica, sono il quantificatore universale e il quantificatore esistenziale. Da ultimo, una categoria di simboli effettivamente non importanti, serve solo per chiarire, a volte disambiguare, il significato di una formula laddove ci sono delle ambiguità relative alle precedenze dei connettivi e dei quantificatori sono le parentesi e la virgola. Queste sono le sette categorie di simboli che fanno parte di un orfabeto della neologica del primo ordine. È importante, ovviamente, come dicevamo parlando di simboli studiari, definire anche le precedenze e anche le associatività, anche se qui non le ho riportate perché sono scontate, fra i connettivi e i quantificatori per poter disambiguare il significato delle frasi. Noi stabiliremo questa convenzione, ovviamente l'adottiamo da decenni passati, cioè di avere il NOT e i due quantificatori nella categoria di precedenza maggiore, poi successivamente a priorità più bassa l'OR, a priorità ancora più bassa l'AND, a priorità più bassa di tutti i simboli di implicazione. Bene, definito un alfabeto bisogna andare a definire quali sono le regole per creare le formule. Nel caso teologico del primo ordine, le regole sono semplici e ricorsive, ma richiedono prima di definire il concetto di termine. Vediamo prima cos'è un termine, poi che cos'è una formula ben formata, cioè come si costruisce un termine e poi come si costruisce una formula ben formata. Un termine. Il termine definito ricorsivamente così. Un termine è o una variabile costante, oppure se f di arità n è un simbolo di funzione e t1 tn sono termini, allora f ad arità n applicato a questi n termini, esso stesso è un termine. Quindi la definizione di termine è una definizione ricorsiva. Per esempio, se io ho che f è un simbolo di arità 1 e a è una costante, f di a è un termine, perché a, essendo una costante, è un termine, f a di arità 1 applicato a un termine, f di a, mi da un termine, e così via. Le formule. Si chiamano formule ben formate, fbf in italiano, oppure well formed formula, quindi w, w, f in inglese. Come sono definite? Anche queste sono definite ricorsivamente in questa maniera. se p è una lettera predicativa n aria e t1 tn sono termini, allora p applicata a questi t1 tn termini è una formula, in particolare, ben formata, in particolare è una formula che viene detta atomica, in quanto che non contiene né connettivi né quantificatori. Quindi è la forma base di formula. Dopodiché, se f e g sono formule, allora sono anche formule not f, f and g, f or g, f implica g e f coimplica g. Da ultimo, se f è una formula e x è una variabile, allora anche qualunque sia x, f e esiste x, f sono formule ben formate. Nient'altro è una formula ben formata. Come anche prima, parlando di termini, avrei dovuto dire nient'altro a un termine. In questo corso faremo degli esercizi per poter verificare la buona scrittura di formule. vi invito a questo punto a fermare la lezione, l'ascolto di questa lezione e provare a fare degli esercizi come quelli che sono riportati sul sito del corso. Allora, quindi, a questo punto abbiamo capito che una logica di primo ordine è definita innanzitutto da un linguaggio che viene definita a partire dalla sua volta da un alfabeto e delle regole che stabiliscono come formare le formule ben formate con i simboli dell'alfabeto. Quindi, ad esempio, qualunque sia x, esiste un y, tale che p di x, y implica q di x, è una formula ben formata. Come anche questa, non esiste x, tale che siano entrambe vere, p di x, a e q di f di x. Anche questa qui è una formula ben formata. Qualunque sia x, se x gode la proprietà q e x non gode la proprietà r, allora x è in relazione p con g di x. Questo qualunque sia x. Anche questa è una formula ben formata. Non è una formula ben formata questa qui. Not esiste x, non esiste un x, tale che siano entrambe vere queste cose, che x è in relazione p con a e f di x. Perché non è una formula ben formata? Perché f, lo vediamo da sopra, l'abbiamo considerata essere un simbolo di funzione, molto probabilmente è sicuramente un ario, se questa qui era corretta, quindi f era un simbolo di funzione un ario. Non è un ario, un ario. Quindi come simbolo di funzione rappresenta un termine e io, le regole del linguaggio non mi consentono di mettere in end una formula con un termine. Il termine può solo comparire come argomento di un predicato, ma non può comparire come formula. Un termine non è una formula. Informalmente lo spiego perché. Perché il termine rappresenta un oggetto del dominio e non un concetto vero falso. Viceversa, una formula mapperà semanticamente sul concetto vero falso, sarà vera, è una formula un'affermazione sostanzialmente, di cui si potrà dire se è vero o falsa. Un termine non è un'affermazione, ma è la rappresentazione di un oggetto del dominio. Non è né vero né falso. Quindi non può comparire né in end né in or, non può comparire sotto come campo, nel campo di un connettivo. Quindi la regola per formare le formule del formato esclude questa possibilità. La sintassi, dopo aver definito come vengono costruite le formule del linguaggio, si occupa delle, deve definire le regole di inferenza. Nella logica del primo ordine abbiamo due fondamentali regole di inferenza. Nel corso della storia della logica, in particolare ad opera della filosofia scolastica, sono state concepite innumerevoli regole di inferenza, cioè regole per dedurre logicamente formule da altre. Nel corso del ventesimo secolo, soprattutto ad opera di Russell Whitehead, sono state tutte quelle regole di inferenza ricondotte essenzialmente a due. La prima, la più famosa di tutte, è la modus ponendo ponens, che deriva appunto dalla scolastica, ma mentre nella scolastica ne concepiva altre, per esempio la modus ponendo ponens e altre ancora, noi abbiamo, come dicevo poco fa, conservato solo la modus ponendo ponens, abbreviata modus ponens. È un'applicazione che è data a due formule del linguaggio, ne produce un'altra, in maniera appunto automatica. se le formule sono strutturate in questa maniera, se ho una formula F, una delle due, e l'altra una formula di questa forma, F implica G, da F ed F implica G, produci, io qui ho scritto deduci perché effettivamente il senso sarebbe quello di produrre, al fine di dedurre, produce un'altra formula G e metti la sostanzialmente insieme alle altre. Ancora non parliamo di semantica, per cui non posso addentrarmi sul significato di deduzione, lo vedremo più in là. Al momento, ecco, l'unica cosa importante di capire, ripeto, è che il modus ponendo ponens è una regola che date due formule di questa forma, F e F implica G, formule ben formate entrambe ovviamente, viene dedotta, viene prodotta anche la formula G. La seconda ed ultima regola di inferenza dell'oglio del primo ordine si chiama generalizzazione ed è un'applicazione da L in L perché da una formula ne produce un'altra. Le formule sono semplicemente queste qui. Un dato a una qualunque formula F, io posso produrre sintatticamente la formula qualunque sia X, F. Questa può sembrare un po' strana, sicuramente, come regola di inferenza, ma è necessario produrla per poter arrivare a definire quello che poi vedremo alla fine di questa parte introduttiva del corso di logica, e cioè poter arrivare a definire un sistema di deduzione completo, e cioè in grado di derivare qualunque teorema del linguaggio. È un po' strano, può sembrare strano associare un quantificatore universale e una X a una formula che non è detto che contenga quella X, ma tant'è, per il momento, prendiamola così com'è. Queste che abbiamo visto sono quindi le due regole di inferenza della logica del primo ordine. Avremmo quindi completato la definizione della sintassi di una logica del primo ordine. Prendiamo però qualche minuto per riflettere meglio sul significato dei quantificatori, no, sul significato no, perché ancora la semantica non la stiamo trattando, però riflettiamo un pochino meglio su cosa sono i quantificatori, e in particolare su cosa sono le formule chiuse, che una grandissima importanza avranno nel corso di intelligenza artificiale e nel corso di logica per l'intelligenza artificiale. Parlo delle formule chiuse. specificiamo un po' meglio che abbiamo adottato anche nell'intelligenza artificiale, nella logica del primo ordine, l'uso di questi due quantificatori, che sono appunto il quantificatore universale e il quantificatore esistenziale. La variabile individuale, ovviamente, che compare qui a fianco ai simboli di quantificazione universale ed esistenziale, viene detta indice del quantificatore. La x che vedete qui viene detta indice del quantificatore. La formula su cui il quantificatore si applica viene detta campo d'azione del quantificatore. Ora, cosa accade? Che, dato una certa formula, se io vado a vedere se in questa formula vi compaiono delle variabili, per esempio una variabile x, dovrei subito far chiarezza sul fatto che quella variabile in quel posto, quindi quella occorrenza di quella variabile, compare o no dentro il campo d'azione di un quantificatore in cui lei compare come indice. perché se così è, allora quella occorrenza di quella variabile si dice occorrenza vincolata, vincolata perché compare nel campo d'azione di un quantificatore di cui lei è indice. Se invece così non è, allora quella occorrenza della variabile si dice occorrenza libera. Se non esistono dentro una formula delle occorrenze libere di variabili, allora la formula viene detta chiusa. Cioè che cos'è una formula chiusa? Una formula chiusa è una formula senza occorrenze libere di alcuna variabile. Per esempio, la prima formula che vediamo qui, cosa dice? esiste x tale che p di xy. Ora, a causa della precedenza alta del quantificatore esistenziale, il campo d'azione del quantificatore esistenziale si esaurisce alla prima parentesi tonda chiusa. Non va oltre, perché l'end ha una priorità più bassa del quantificatore esistenziale. quindi l'occorrenza di x che compare all'interno di q di x è libera. Non compare questa x qui all'interno del campo d'azione del quantificatore esistenziale. Come d'altronde non esiste un indice y di quantificatore universale esistenziale che sia all'interno di questa formula, e quindi l'unica occorrenza della variabile y che vi compare è sicuramente un'occorrenza libera. Quindi questa prima formula che vediamo è una formula aperta perché ha ben due occorrenze libere di due variabili. Un'occorrenza per la x e un'occorrenza per la y. Viceversa c'è un'occorrenza per la x che è questa qui che è chiusa. Comunque la formula è aperta perché ci sono due occorrenze di due variabili libere. La seconda abbiamo esteso il campo d'azione del quantificatore mediante un opportuno uso delle parentesi tonde a tutta la formula ma la formula rimane aperta perché rimane l'occorrenza della variabile y rimane libera. Se poi anteponiamo alla formula anche un quantificatore universale che abbia y come indice a questo punto tutta la formula sarà priva di occorrenze libere di variabili e quindi diventerà una formula chiusa. Le formule chiuse sono molto importanti perché per poterne stabilire il significato del valore di verità non è necessario fare alcuna ipotesi sull'oggetto a cui una certa occorrenza libera di una variabile si riferisce e quindi sarà molto relativamente semplice definire il valore di verità e andare a definire se esiste una relazione di conseguenza logica fra una formula e l'altra come vedremo fra un po'. Come vedremo appunto quando cominciamo a parlare di semantica cioè adesso abbiamo chiuso la parte della sintassi e quindi facciamo una pausa e poi cominceremo a parlare della semantica della logica del primo ordine di semantica Grazie.